Terza vittoria consecutiva, questa volta non avete concesso set e siete sempre state molto lucide, anche quando Bologna comunque si è rifatta sotto. Sì, devo dire che questa terza partita e questa terza vittoria sia stata una prova di lucidità notevole perché loro sono una squadra ordinata, una squadra che sbaglia poco, quindi siamo state brave nel imporre il nostro gioco e nel riuscire a mantenere una stabilità senza grandi cali durante tutta la partita. Vittoria di squadra, Mearini e Battista addirittura sono rimaste in panchina, gruppo quasi totalmente nuovo eppure state già mostrando un feeling invidiabile. Devo dire che il feeling è dovuto al tanto lavoro che facciamo in palestra, siamo una bella squadra, un bel gruppo e siamo 13 titolari, è difficile trovare altre squadre così ben organizzate. Penso che sia un nostro punto di forza nel momento in cui una magari durante la partita ha momenti di difficoltà, c'è subito l'altra pronta ad aiutarla, quindi devo dire che è una bella cosa. MVP per la sala stampa, una soddisfazione in più? Sì dai, è sempre piacevole comunque ricevere queste gratificazioni, ma devo comunque dare il merito alla mia squadra che mi ha aiutato perché senza di loro io i punti non li ho fatti. E adesso un avversario che sulla carta è comunque insomma magari un gradino su rispetto alle tre formazioni affrontate fin qui? Calma Sons è sicuramente una squadra ben organizzata, una squadra che vuole fare bene, noi andremo da loro provando a giocarcela e sicuramente dando tutto in campo, poi se saranno più forti si vedrà.